L'infortunio è accaduto stamane intorno alle 10.30 in porto. Un marinaio turco del traghetto Troi, nel corso delle operazioni di carico dei semirimorchi sulla nave, è stato urtato da una macchina operatrice denominata Ralla, che stava facendo manovra. L'uomo, un addetto al personale di bordo del traghetto turco, è stato subito soccorso e portato a Cattinara, dove gli è stata riscontrata la frattura di una gamba. In Gessato, il marinaio è già stato nuovamente imbarcato. Un incidente dall'esito non drammatico, ma che ha riportato alla mente dei lavoratori portuali la tragedia accaduta in porto nell'ottobre di due anni fa, quando in una situazione descritta dai sindacati del tutto simile a quella odierna, perse la vita il portuale Roberto Bassin. Dopo l'incidente, fu siglata dall'autorità portuale un'ordinanza, proprio per garantire la sicurezza del personale durante le operazioni di imbarco e sbarco. Il documento dice che ci deve essere sempre un segnalatore, spiega il rappresentante dei lavoratori portuali Stefano Puzzer, ma oggi non c'era. Per questo chiediamo che l'ordinanza sia rispettata sempre. La tragedia, aggiunge, è stata solo sfiorata. Alcuni operatori generici sono riusciti a bloccare il manovratore della ralla, che altrimenti avrebbe probabilmente schiacciato il marinaio turco, anziché toccarlo soltanto. A breve si riunirà un tavolo urgente in porto sull'accaduto.